Ancora l'ombra della mafia che si staglia nel territorio aretino ed in particolare nel Val d'Arno. Sono in tutto sei le persone arrestate a San Giovanni dalla Guardia di Finanza di Firenze con l'accusa di associazione a delinquere. La loro base operativa era proprio il Val d'Arno, la loro attività, l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti, grazie al ricorso alle imprese strettamente legate al clan dei Casalesi. Il giro di affari è quello del mondo edilizio e nel mirino degli inquirenti ci sarebbe il gruppo di potenza. Le imprese legate alla camorra percepivano parte dei guadagni derivanti dalle emissioni di fatture false. Tra gli arrestati un imprenditore 62enne, originario della provincia di Caserta, da anni trasferitosi nel Val d'Arno con svariati precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso. In manette altre cinque persone a capo delle ditte cosiddette cartiere, tutti abitanti tra San Giovanni, Terra Rova Bracciolini e Montevarchi. L'operazione dal titolo Atlantide è condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Tra le imprese controllate anche quella che a suo tempo si occupò dei lavori di ristrutturazione della villa a Figline della Popstar Sting. Oltre agli arresti sono in corso in Toscana e in Campania i sequestri dei beni intestati agli indagati per un valore che supera gli 11 milioni di euro.